Mi scuso per questa mezz'ora accademica, so che tutti state impegnati, siete impegnati, di conseguenza ripeto mi scuso, ma andiamo veloce poi vediamo se c'è qualche domanda. Quando si parla di fondi PNRR tendenzialmente si pensa subito a opere pubbliche, opere strutturali, ponti, scuole, ospedali eccetera. Fortunatamente il PNRR prende a carico anche le tematiche legate alle crisi occupazionali che volete o non volete c'erano già e sono state in qualche modo incentivate non solo nelle marche ma nei livelli nazionali anche da questi due anni di crisi pandemica. Ad oggi noi nelle marche abbiamo portato avanti un lavoro molto interessante, un'opera molto interessante legate a dei fondi appunto di PNRR legate alle politiche attive del lavoro, cioè vocate all'occupazionalità delle persone oggi disoccupate. Il progetto si chiama GOL, Garanzia Occupazionale Lavoro, lo dice la parola stessa. I fondi che sono arrivati non sono poca cosa perché sono interessanti. Per 5 anni arriveranno, questa è la prima annualità, sono arrivati nella prima annualità 22 milioni e 800 mila euro in due situazioni diverse, 21 milioni e 384 mila proprio tramite il PNRR, 1 milione e 470 tramite altre attività comunque sempre a disposizione, quindi complessivamente sono 22 milioni e 800 mila euro ed è una cifra molto interessante ovviamente. Questa solo sul primo anno, vediamo se poi negli altri 4 e 5 annali il piano arriverà la stessa cifra di più di meno, questo adesso ad oggi non ci è dato sapere. Ci tengo a dire che questa cifra e questa attività è stata fortemente seguita dalla nostra regione di concerto con diverse altre regioni italiane, nelle modalità, nei criteri, nelle ripartizioni tra le regioni. C'è stata una forte discussione ad esempio, perché uno dei parametri legati a queste cifre, quanto arriva nelle varie regioni è legato al numero, è legato anche al numero di percettori di reddito di cittadinanza, quindi è legato al numero dei disoccupati, ma è legato anche al numero dei percettori di reddito di cittadinanza. C'era una fascia abbastanza alta, predisposta, evocata, diciamo così, i percettori di reddito di cittadinanza. Questo era chiaro che portava gran parte di quei fondi verso il sud d'Italia. Su questo c'è stata una forte discussione e anche le marche, insieme a molte altre regioni come il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, abbiamo portato avanti una battaglia molto forte che ha riequilibrato parzialmente questa iniziativa, questa situazione. Quindi abbiamo creato criteri che si orientassero anche un po' su altri parametri. Comunque è stata una lunga discussione, sono mesi che si sta discutendo di questa iniziativa. Le marche sono state indubbiamente protagoniste di questo percorso e secondo me sono state anche sufficientemente premiate ad una cifra molto consistente, ripeto, 22 milioni 800 mila euro a disposizione per quest'anno. Un'altra delle battaglie che abbiamo portato avanti anche come regione Marche è stata quella che le scelte e i fondi fossero gestiti direttamente dalla regione. Quindi non tanto la regione che coaduva scelte nazionali, ma le regioni che mettono in campo le iniziative finanziate dai fondi nazionali, i fondi PNRR. La specificità è questa. Noi abbiamo scelto su un progetto che abbiamo presentato al Ministero e a Ampal nazionale e che è piaciuto, quindi noi lo abbiamo approvato l'altro giorno conseguentemente, che prevede la presa in carico, poi spiego meglio, poi c'è anche qui il dottore Terzoni che magari più di me entrerà in qualche particolare, abbiamo scelto appunto questa strada di prendere in carico per coprire l'intera cifra 14.800 disoccupati circa, 14.800 persone disoccupate della nostra regione, che siano percettori o di NASPI, quindi la cosiddetta disoccupazione per fine lavoro, per licenziamento, o di cassa integrazione per cessata attività, oppure per cettori di reddito di cittadinanza, cioè figure che disoccupate, però sono attualmente seguite, diciamo dai vari metodi di accompagnamento all'uscita dal lavoro, di sostegno. Come dire, se noi troviamo occupazione a queste persone, alleviamo fortemente anche la spesa che già abbiamo in auge per poter accompagnarli in questa fase di uscita dal lavoro, quindi se uno in cassa integrazione trova lavoro, non prende più la cassa integrazione, se un percettore di reddito di cittadinanza trova lavoro, non prende più il reddito di cittadinanza, cioè si riequilibra anche una spesa complessiva, è anche vocato a questa iniziativa. Quindi 14.800 persone disoccupate di questa regione sono prese in carico ai nostri centri per l'impiego, quindi seguiti, approfondiranno uno per uno, caso per caso, come sono le situazioni, la loro predisposizione, la loro situazione, il loro orientamento, le loro specificità. Li metteranno in condizioni di poter essere formati attraverso enti formativi ricercati e portati, diciamo così, in auge dalla regione, scelti dalla regione, e saranno orientati verso quell'attività che nel frattempo nel mercato si saranno trovate e ricercate perché possano accogliere questi lavoratori. e si prevede in questo caso anche poi sostegno, diciamo così, all'ingresso lavorativo. Ci sono varie fasi all'interno di Goal, quindi l'orientamento, la formazione, il sostegno all'ingresso all'impresa e la cosa importante è che noi la presa in carico e l'orientamento lo facciamo attraverso i nostri centri per l'impiego e gli enti accreditati scelti dalla regione. Mentre invece l'inserimento lavorativo vero e proprio potrà essere effettuato anche tramite le agenzie private. Quindi ci avvarremo anche delle agenzie private per ricercare luoghi di lavoro e inserimenti al lavoro. Questo è un'altra, diciamo, stante perché credo che in un momento di difficoltà come queste che saranno purtroppo ulteriormente aggravati da questa crisi ucraina, perché finita la crisi pandemica arriva la crisi coreina e le Marche saranno una delle regioni più toccate, perché le Marche sono una delle regioni in Italia che più opera a livello di Ucraina e Russia con le proprie attività, quindi ci saranno ulteriori problemi purtroppo. Di conseguenza avere oggi l'ausilio di tutte le professionalità, esperienze e attività possibili da mettere in campo questo è utile, quindi attraverso i nostri centri per l'impiego, attraverso le nostre attività come regione, affiancato avremo anche le agenzie private che ugualmente saranno convenzionate in qualche modo e per poter orientare, portare a compimento l'inserimento lavorativo di queste persone nel mondo del lavoro marchigiano. Io credo che di base, ho detto un po' tutto di base, adesso io direi che puoi aggiungere alcune cose più tecniche, più pratiche e poi vediamo se c'è eventualmente qualche domanda. Sì, buonasera. Allora diciamo alcune cose oltre a quello che già ha dato ovviamente l'indicazione al Sessore su quello che è la consistenza di questo programma. Intanto la fase temporale in cui questo programma cade e cade proprio diciamo a proposito, nel senso che noi il 2022, l'anno in cui si stanno completando ed esaurendo le risorse del Fondo Sociale Europeo che finanzia per la gran parte queste politiche della formazione del lavoro della vecchia programmazione e ancora non sono arrivate, non sono ancora disponibili quelle della programmazione 2021-27, che lo saranno probabilmente verso la fine dell'anno. Quindi diciamo che il gol capita a Fagiolo nel senso che ci consentirà dai prossimi mesi di mettere in campo risorse per le politiche a favore dei disoccupati per il lavoro e per la formazione. Quali sono le peculiarità di questo programma rispetto a programmi ordinari di politica attiva del lavoro, quali quelli finanziati col Fondo Sociale Europeo? Che anche per i grandi numeri che prende in considerazione il programma, parliamo di circa 15 mila disoccupati su 80 mila che c'è complessivamente la regione, quindi parliamo di numeri importanti, non poteva prevedere l'occupazione di tutti questi lavoratori, infatti il target è quello dell'occupabilità, quindi mettere in condizione i lavoratori, soprattutto i lavoratori più fragili, perché tra le categorie che vengono presi in carico, una particolare attenzione dovrà essere rivolta a fragili, che in base anche alle dinamiche del mercato del lavoro, oltre a quelle classiche, disabili, disoccupati di lunga durata, ma anche i giovani che faticano a trovare lavoro, le donne che hanno lo stesso delle performance di occupazione più basse rispetto agli uomini. e appunto essendo target molto difficili, l'obiettivo dato dal PNRR non è quello di trovare il lavoro immediatamente, poi questo ovviamente è l'auspicio che poi arriverà in seconda battuta, ma inizialmente è quello di rafforzare le competenze di queste persone per far sì che siano più competitive nel mercato del lavoro. Infatti l'azione principale di politica attiva che avrà fatta all'interno del programma è quella della formazione professionale, abbiamo un target di almeno 4.000 persone da mettere in formazione, però noi nel nostro programma abbiamo voluto caratterizzarlo affiancando alla formazione professionale anche altre misure di politica attiva, quindi prevediamo i tirocini, le work experience e anche l'autoimprenditorialità, quindi incentivi per la creazione di impresa. Perché? Perché vogliamo cercare di alzare l'asticella dell'obiettivo, cioè non limitarci solo a formare le persone che comunque sono veramente importante e utile, ma cercare anche attraverso magari anche progetti specifici di trovare proprio un'occupazione lavorativa a una parte ovviamente dei lavoratori, dei soggetti che verranno presi in carico. L'altro aspetto importante che accennava l'assessore era quello che è un'ulteriore diciamo, non sperimentazione, intervento nel quale andremo a misurare la collaborazione dei servizi pubblici e privati per il lavoro. Come ricordava l'assessore, la prima fase è quella di accoglienza, di presa in carico, di primo orientamento di base, verrà fatta esclusivamente dai servizi pubblici dell'impiego perché hanno anche la conoscenza del panorama dei soggetti che devono essere presi in carico. Poi però ci sarà l'avvio a una seconda fase che potrà essere, sarà anche attivata utilizzando le agenzie private per il lavoro. Questo avverrà con diverse modalità, una modalità è quella della presa in carico diretta dall'agenzia che poi creerà dei percorsi anche per portare, accompagnare a trovare un lavoro a questi soggetti, ma anche attraverso dei raggruppamenti di impresa che prevedono sia l'agenzia per il lavoro che agenzie formative, in modo che ci sia questa integrazione di politiche, quelle formative con le politiche poi successive di accompagnamento e inserimento lavorativo in azienda. Le attività si caratterizzano da format standard a livello nazionale per l'individuazione di cinque percorsi all'interno dei quali verranno inseriti i disoccupati lavoratori che verranno presi in carico, che sono il primo è quello dell'inserimento lavorativo, percorsi per l'inserimento lavorativo, che appunto è la fase successiva al centro per l'impiego pubblico e prevede l'indirizzare queste persone verso delle misure di politica attiva. Poi ci sono due percorsi di natura formativa, l'upskilling e il reskilling, il primo è un innalzamento delle competenze attraverso una formazione essenzialmente di breve durata, breve durata, comunque 150 ore di formazione individuale. L'altro percorso è un reskilling, cioè ricostruire le competenze complessivamente del soggetto, pensiamo ai tanti casi purtroppo che abbiamo anche in queste settimane nella nostra regione, di aziende che chiudono, che passano di mano ad altre aziende che fanno un mestiere diverso e quindi lì in quel caso c'è la necessità di riformare per nuove professionalità lavoratori che prima facevano un'attività diversa da quella che poi viene chiesto da un'azienda che subentra ad un'altra e quindi anche questo è un altro percorso. Poi c'è il percorso quello più specifico per le categorie più fragili, quindi disabili, qui c'è anche l'integrazione con gli ambiti territoriali sociali, quindi con le politiche sociali per queste categorie di persone. Infine l'ultimo percorso si chiama ricollocazione collettiva. Pongo un attimo l'attenzione su questo perché la ricollocazione collettiva dentro il PARGOL tratta di quelle persone che in caso integrazione, sono in caso integrazione quindi ancora occupati ma che, come accennava l'assessore, per cessazione, caso integrazione per cessazione che quindi a breve poi diventeranno soggetti da ricollocare. In quel caso lì noi, e quindi si prevede diciamo formazione essenzialmente per questi soggetti. Noi stiamo costruendo, quindi anticipo al sessore, una politica attiva, un intervento di politica attiva che appunto partendo da GOL ma che poi amplimenteremo su questo target dei lavoratori delle aziende in crisi. Sostanzialmente l'idea che stiamo sviluppando e a breve poi avremo concretamente, è quella di istituire un fondo regionale per le politiche attive nelle situazioni di crisi aziendali. E queste risorse del percorso 5 di GOL saranno le prime risorse che alloccheremo all'interno di questo strumento. Cioè questo strumento poi ci consentirà di avere un ruolo attivo nelle crisi aziendali e poter proporre, come ci viene chiesto nei tavoli di crisi recenti, pensiamo ad Elica, pensiamo a Caterpillar, alla Regione viene chiesto di fare la sua parte anche con quella di mediare tra azienda e sindacati per cercare di trovare delle soluzioni. Ma anche quella di mettere a disposizione risorse, formazione in primis, formazione continua, quindi per i lavoratori che appunto riqualificano la loro attività per evitare il licenziamento. E quindi ecco, questo percorso 5 che cuba al momento circa 3 milioni di euro, sarà un primo tassello di questo fondo per le politiche attive per le crisi aziendali. E quindi ecco, è importante, poi a queste risorse ne aggiungeremo anche altre, arriverà anche il Fondo Sociale Europeo, eccetera. Quindi costituiremo questo strumento che riteniamo che sia importante per dare risposte alle crisi aziendali, sperando che ce ne siano meno possibili, di meno in futuro, però non è che siamo così ottimisti su questo. Grazie. Prego. 14.800 beneficiari circa. A fronte di 80.000 disoccupati, come verrà fatta l'individuazione di questo platto, diciamo, di beneficiare. Grazie. Sì, allora, ci saranno degli avvisi, nel senso che, perché il problema poi dei disoccupati che ci sono, non tutti sono attivi, no? Abbiamo poi quelle situazioni. Quindi probabilmente non dovremo poi fare una selezione all'ingresso tra disoccupati. Probabilmente ci saranno disoccupati che si rivolgeranno agli sportelli dei centri per impiego, richiedendo di essere inseriti in politica attiva. Quindi noi prevediamo, è chiaro che non manderemo indietro nessuno, cioè se ne arrivassero 25.000 disoccupati li prenderemo in carico tutto. Poi questo è solo il primo anno, chiaramente. Poi il programma Goal continua anche nei prossimi anni, fino al 2025, forse anche oltre. Poi le risorse potranno essere spese anche successivamente. Quindi diciamo che non ci sarà il problema né di pochi utenti da intercettare, ma probabilmente anche se fossero di più saremmo in grado di farlo, ovviamente... è una gradualità. Siamo già a metà anni, anche per non finire al prossimo, ci saranno i risorsi. E' che riparto con 4.800 perché abbiamo valutato che una vera cifra lì, la mola di lavoro più o meno ci porta quel numero lì, ma non c'è un... deve ancora partire. Sì, anche perché... Non ci rendiamo neanche conto fino in fondo che tipo di dupo potrebbe avere. È inetica la cosa. Poi il 14.800 è il numero, diciamo, è il target ideale di riferimento per il 2022, anche se l'obbligo è di prenderne in carico e avviarne alle politiche attive circa la metà, quindi però noi ovviamente non è che ci fermiamo. Cioè il processo è importante che il processo parte adesso, ma poi continuerà anche nel tempo. Cioè il modello goal, come in passato c'è stato il modello garanzia giovani per il target giovane, non è che poi nel 2025 finisce goal, azzeriamo tutto. No, certe dinamiche, certe politiche, certe tipologie di organizzazione, se hanno funzionato noi le continueremo a fare anche successivamente al programma. Posso? Qua dal collegamento. Volevo chiedere questo. Come funziona una volta che avete trovato l'azienda? L'azienda poi viene incentivata? Cioè come funziona l'accompagno poi del lavoratore? Nel senso che dopo la formazione giustamente che viene data c'è un qualcosa anche per la parte imprenditoriale? Allora diciamo che no, in automatico no, nel senso che poi noi potremmo realizzare dei progetti specifici del programma che magari possa prevedere un percorso ad esempio di inserimento lavorativo attraverso una borsa lavoro al cui termine sia previsto un incentivo all'assunzione. Però questa non è la situazione ordinaria. Cioè la situazione ordinaria il focus è sul lavoratore, per esempio l'agenzia per il lavoro lo prende in carico e lo accompagna a un'azienda, ma non che l'azienda per forza debba avere l'incentivo. Poi faremo magari, abbiamo già ipotizzato, all'interno del programma faremo qualche progetto specifico per magari target specifici che potrà prevedere anche un incentivo all'assunzione. Però questa non è la soluzione, diciamo, situazione ordinaria. Prego. Se dovrebbero essere previsti i percorsi personalizzati di formazione a seconda dell'esigenza per cui c'è la presi in carico, si valuta che si deve fare il programma? O quel lavoratore come si deve formarlo? Può essere personalizzata o se magari durante il percorso vediamo che c'è un filone, può essere per chi, può essere per i particolarmente giovani, oppure per le donne, oppure per chi ha, diciamo, una casistica particolare. E lì magari capiamo che c'è un'esigenza che però merita magari un accompagnamento anche di sostegno all'impresa, come diceva adesso Terzoni, attualità che preveda un ingresso sostenuto magari per i primi tempi, per i primi mesi. Non è, diciamo, nel progetto iniziale, il progetto iniziale, la presa in carico e l'orientamento della formazione. Però io, l'ho detto già anche in premessa, io non escludo affatto anche un potenziale sostegno all'ingresso, perché secondo me potrebbe essere, diciamo, molto utile, molto utile. Quindi su questo potremmo mettere in campo dei progetti, ma lo vedremo un attimo strada facendo, perché non sappiamo a priori dove può e non può servire un eventuale sostegno. Magari ci orientiamo, dicono, stupitaggi verso la metalmeccanica, invece magari sostegno serve verso l'alberghiero. Adesso faccio ad esempio a caso. L'azienda cessa, lo prende in carico il centro per l'impiego e valuta sul lavoratore che tipo, quale tipo di attività ha. Di predisposizione ha? Chiaro, però ci può anche stare che un lavoratore che ha fatto finora un lavoro e magari noi sappiamo che c'è un'esigenza di tipo diverso, noi possiamo a quel lavoratore chiedergli se è disposto a fare un forzo formativo che è dell'Orienti, verso questa nuova... anche perché oggi bisogna essere molto attenti, flessibili su questo, perché il mondo del lavoro cambia repentinamente. Consideriamo che noi, per esempio, per quello che riguarda l'attività formativa, abbiamo già di pronto intervento, definiamolo così, cioè il catalogo regionale della formazione, il bando per lotti di ore di formazione. Questo ci consentirà di poter avviare velocemente i soggetti alla formazione su un ampio ventaglio di figure professionali. Poi se emerge una, come già abbiamo ovviamente valutato nell'ambito delle analisi del contesto produttivo, di analisi che fa bisogno delle figure professionali che fino ad oggi magari non erano praticate molto a livello di formazione, se mai se dovesse servire faremo anche un bando specifico per quelle figure, pensiamo a tutte le figure, diciamo, a transizione digitale o quelle in natura ambientale, oppure quelle più tradizionali tipo l'impiantistica in edilizia, che oggi è un tema di estrema attualità. Quindi laddove non avessimo nel catalogo regionale queste figure professionali ovviamente saremmo pronti ad attivare questi percorsi. Posso fare una domanda? Prego. Ecco, mi sono Luca Fabri. Allora chiedevo, visto che il bando sull'autoimprenditorialità era andato molto bene, l'altra volta forse anche oltre le aspettative, se su quei 23 milioni c'è già una cifra stanziata per quella misura in particolare ed inoltre, siccome ho avuto un problema con la connessione, se mi può ripetere il passaggio sul fondo per le crisi aziendali, i soldi che stanziate. Sì, allora sull'autoimprenditorialità, noi qui lo prevediamo ovviamente le risorse, è chiaro che per il target particolare, perché il classico bando diciamo sull'autoimprenditorialità, sull'incentivo a creazione di impresa, no? È un bando aperto per cui chi ha la vocazione imprenditoriale partecipa presente al progetto. Qui lavoriamo su un target, un bacino anche se molto ampio già definito, per cui probabilmente non sarà una delle misure principali da attivare all'interno di Goal questa, però noi comunque l'abbiamo prevista. Per quello che riguarda i lavoratori delle crisi aziendali, ipotizziamo anche il worker buyout, cioè la possibilità che dei lavoratori che escono da un'azienda possano magari rilevare l'azienda oppure costituire un'azienda, ovviamente parliamo di questo caso di piccole aziende, di micro aziende, però ecco il grosso dell'autoimprenditorialità arriverà col fondo europeo adesso. Infatti su questo ci volevo tornare, prendo a spunto questa domanda perché i bandi che noi abbiamo messo in campo lo scorso anno per oltre 9 milioni di euro per la creazione di impresa sono andati a buon fine, nel senso ci sono gradatori e non sono soddisfatti, tant'è che un paio di mesi fa abbiamo rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro lo scorrimento di quelle gradatorie, quindi sappiamo che molte piccole aziende sono state create grazie a questo incentivo, è proprio perché abbiamo visto che sta funzionando e le aziende dopo alcuni anni tendenzialmente sono tutte attive, tendenzialmente poi ovviamente ci sono anche quelle che hanno dovuto cessare, ma la maggior parte sono attive, quindi ha funzionato, sono molto motivato nel volerle riproporle, nel volerle riproporle, molto motivato, ma non è all'interno di Gol, Gol ha una procedura che non porta esattamente a quello, ma vorremmo ricercare fondi dal Fondo Sociale Europeo, vediamo un attimo da quali potremmo attingere durante l'anno, perché io sono fortemente motivato comunque a rimettere a bando un'attività di questo genere entro il 2022. Riguardo al Fondo per le politiche attive delle crisi aziendali, sostanzialmente l'idea è questo fondo che viene alimentato da più canali di finanziamento, uno è punto e Gol, è il percorso 5, ricollocazione collettiva di Gol, ma poi sarà l'FSE, saranno eventualmente formazione continua, potrà essere altre risorse che derivano da residui negli ammortizzatori sociali, costruiamo questo fondo che verrà utilizzato con una procedura tra virgolette a sportello, nel senso che nel caso di crisi aziendali che sono comunque certificate, nel senso che passano attraverso i tavoli di crisi, siano essi tavoli regionali che nazionali, in questo caso noi siamo in grado di dare una risposta immediata alle esigenze che escono dal tavolo di crisi di riqualificazione ai lavoratori, ricollocazione eccetera, quindi con tempi in questo caso rapidi, senza dover fare un bando nel momento in cui si verifica la situazione di crisi o la necessità di formazione o di ricollocazione, cioè già lo strumento lo costruiamo prima, ce l'abbiamo disponibile. Un ultimo flash, volevo capire, nel target che avete pensato questi 15 mila lavoratori, immaginate che ci siano territori che hanno più necessità, cioè quindi voi sapete che ci sono zone dove c'è un tasso di disoccupazione, un'incidenza maggiore che potrà essere interessata No, diciamo una cosa, che il programma Goal ci richiede dal livello nazionale che ci sia una uniformità di presa in carico in tutti i territori, ovviamente non deve essere scientifica all'unità chiaramente, è chiaro che diciamo che noi in partenza, diciamola così, nei vari i bacini di riferimento sono i 13 bacini dei centri per l'impiego, in partenza suddividiamo diciamo i 15 mila per i 13, in base ai criteri quelli di popolazione ma anche di disoccupazione. Poi è chiaro che se c'è più richiesta di un centro di un impiego o meno di un altro non è che siamo vincolati a questo, però il programma ci richiede diciamo una capillarità territoriale nell'erogare le politiche. No, nel primo anno questo, parliamo del primo anno. Gli altri ancora non sono usciti nelle risorse che verranno messe a disposizione annualmente nei target di riferimento. l'obiettivo nostro è molto più alto, quello che diciamo è l'opera che si mette per poter seguire diciamo di queste attività che queste sono. Non dobbiamo proseguire per forza nel senso che se sono stati saustiti possiamo anche concludere qui. La mia impressione di prima, ma impressione ripeto, è che c'è una certa differenza tra il nord e il sud delle Marche, il centro sud delle Marche. Secondo me c'è nella provincia più a nord, quella di Pesaro. I disoccupati ci sono comunque iscritti ai centri per l'impiego. Ci sono, perché ovunque sia, i disoccupati ce ne sono molti iscritti ai centri per l'impiego e seguiti anche da parzialmente reddito di cittadinanza, eccetera. Però nello stesso momento c'è una richiesta fortissima da parte delle imprese, non sempre che si riesce a esaudire. Quindi anche qui dovremmo essere attenti ad orientare verso quelle che sono le esigenze di quei territori, perché noi troviamo i cartelli fuori dalle fabbriche a cercarsi personale, cosa che non si vedeva più dagli anni 90. E poi adesso riprende la stagione turistica, lì sarà un dramma, lo scorso anno addirittura c'erano esercizi turistici che non riuscivano a tenere aperto in maniera continuativa come avrebbero voluto perché mancanza di personale.